ciao ragazzi siamo tornati bella oggi siamo qua con il battezzato e si è rovinato il filetto che sorregge lo specchietto quindi vi faremo vedere come poter aggiustare il filetto facendo un helicoil o sennò lo buttate via che fate prima esatto quindi ovviamente andremo a togliere lo specchio e adesso vi facciamo vedere come si monta un helicoil così dopo avete gli specchietti che ci stanno da dio proprio dio 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 molto 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 bene partiamo partiamo allora nel kit che poi vi faremo vedere alla fine del video ti danno già in kit la punta da utilizzare è una punta di 8 e 3 in hss trapano manuale sennò bisognerebbe smontare tutto il blocchetto e andare su un colonna e iniziamo a forare pianino perché siamo sull'alluminio bisogna cercare di stare il più dritti possibili ovviamente qualcuno adesso metterà fermo manubrio grazie serio bisognerà andare pianino perché sull'alluminio tirano può impastarsi sono in asse sembra le madonne perché all'alluminio si dice che diventa ingordo direi che siamo in fondo ok adesso compressore ci dà soffietta e poi facciamo uno zoom sul sul lavoro voilà molto 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 bene allora con una punta grossa andiamo a fare un leggero smusso per far sì di entrare bene con il giramaschi adesso noi andiamo a mano perché siamo sull'alluminio se siete sull'acciaio doverte usare un trappanino ci vorrebbe un svasatore ovviamente noi siamo dei carloni ci abbiamo una puntazza ovviamente indicato dei carloni c'è dei franconi dei franconi stai lì a tirarti la bisacca volevi una mano di un leggero smusso poi abbiamo il giramaschi che troviamo nel kit e via che andiamo a filettare il maschio non il giramaschi si trovi il maschio il giramaschi non c'è effettivamente è una buona forcata però si prea a comprare un giramaschi e siamo a posto proviamo ad andare giù dritti è un maschio unico è i primi punti sono quelli più decisivi sei dritto? per dritti per bisogna fare qualche giro indietro per spaccare il trucciolo è un po' di lubrificante un goccino d'olio un goccino d'olio anche se l'alluminio non è il massimo però qui mi sento che si impasta e oli eh? e oli oh quattro gliene dai oh costa eh? andrebbe bene anche vd 40 so che molti usano vd 40 vediamo se siamo dritti siamo perfetti molto 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 a questa velocità forse per domani abbiamo finito di fare il maschio allora i lavori gli fai una volta gli fai fatti bene non alla cazzo come te fai di solito se qualcuno chiede se l'ho mai fatto sì l'ho fatto un bel po' di volte qualche anno d'officina ce l'ho parte più importante quando arriviamo verso la fine state attenti perché avete già toccato il fondo se sentite che è molto duro non spingete soprattutto con i maschi i maschi piccoli perché si tracciano adesso svitiamo se sentiamo che fa del blocco e usciamo voilà adesso diamo un'altra soffiata e puliamo ok soffiato pulito dentro adesso non ci sono truccioli andiamo a prendere l'helicoil l'helicoil lo prendiamo da questa parte qui così si fai vedere il pernino deve andare dalla parte bassa così e poi andiamo dentro ci impuntiamo proviamo dritti ok dopo è come mettere giù una vita si man mano che va giù si allargano le spire di questa mollettina in acciaio e andate giù a filo quindi esatto se per caso ecco se per caso non vi resta che vi resta fuori andrà tagliata con il flessibile o con con qualche smeriggio in mezzo rimane il pungolo il trascinatore adesso andiamo a rompere col suo col suo kit voilà e adesso abbiamo rotto con l'aria compressa lo tiriamo fuori allora questo è il kit che abbiamo utilizzato che abbiamo acquistato su amazon allora fa dalla m5 fino arrivare alla m12 sono 131 pezzi per ogni tipo di filetto ti danno la sua punta il suo giramaschi non c'è il maschio non c'è il giramaschi volevo dire questo è il trascinatore e questo è per spaccare la puntina che rimane ti danno già qualche inserto da mettere e che dire ci sono le istruzioni con le qui il suo maschio ovviamente non è un maschio che fa tipo in questo caso le m8 per una 25 ma fa il filetto per l'helicoil quindi con questo qua non fate un m8 per una 25 ci mettete l'helicoil di un m8 per una 25 ok buono questo è il kit con la sua scatolina bene allora l'helicoil è montato aspetta che arriva ah ma volevi essere c'è anche tu ah vedi tu è partito l'helicoil è montato adesso possiamo tornare a mettere su il nostro specetto adesso è come un filetto normale quindi è più resistente rispetto a un filetto in alluminio adesso con le due chiavi andremo a regolarlo però vedete che adesso non balla più adesso tra i due strappiamo via tutto ma non verrà più via lo specchietto questo è il bene ragazzi quindi questo punto se avete delle domande dei dubbi fatecele sapere qua sotto non regolate poi lo specchietto tenetelo così ci abbagliamo esatto è più bello fa più scena e poi niente accennete il campanellino perché lui è solo un alieno lo vuole scampanellate iscrivetevi al canale seguiteci su facebook instagram e poi niente tiktok non abbiamo come è che dico sempre delle robe che noi non abbiamo faremo anche tiktok così bagliate che schifo va bene dai ragazzi al prossimo prossimo